Si alza il sipario sulla perdonanza numero 730, il programma artistica è stato annunciato oggi a Palazzo Margherita dal sindaco Pierluigi Biondi, dal vice Raffaele Daniele e dal direttore artistico Leonardo De Amicis. Come sempre grandi nomi, torna in città il grande Renato Zero, chiuderanno l'evento Celestiniani Poo, ci saranno Achille Lauro, Umberto Tozzi, Malika Ian, Colapesce Di Martino, Tiro Mancino e De Colors, Sarà ospite con un suo show Ezio Greggio, ma ci sarà anche tanto altro, come sempre grandi spettacoli confezionati appositamente dal maestro De Amicis per la città. Consueto modo per cercare di avvicinare quanta più gente possibile a questa rassegna che naturalmente trova il suo elemento principale sulla figura di Celestino V, sul suo messaggio spirituale, religioso e anche laico da un certo punto di vista. Lo facciamo con dei nomi importantissimi della musica italiana, avremo l'apertura con Renato Zero, la chiusura con i Poo, insomma, cosa chiedere di meglio, credo che sia un'edizione che come darra edizione migliora di anno in anno l'offerta che facciamo non soltanto agli Aquilani ma anche tanti turisti che sono in città. Si parte il 23 agosto al Teatro del Perdono a Colle Maggio con la cerimonia di apertura che sarà presentata come ogni anno da Lorena Bianchetti, l'arrivo del Fuoco del Perdono e l'accensione del Tripode della Pace alle 20 daranno il via ad una serata di emozioni con tanti artisti, The Colors, Malika Iancola, Pesce di Martino, Tiro Mancino, il telore Gianluca Terranova e Renato Zero. L'orchestra, come sempre, sarà del Conservatorio Casella con un coro che raggrupperà le esperienze più importanti della città con due voci recitanti, Ambrangiolini e Luca Violini. Nel programma, il 24 alla scalinata di San Bernardino, torna anche il Galà Internazionale di Danza. Il 25 agosto si ripete l'esperienza di L'Aquila Suona con band locali in centro. Il 26 in Piazza Duomo a Chi dell'Auro e Rosvillen. Il 27 a Colle Maggio Umberto Tozzi con i suoi indimenticabili e intramontabili successi. Il 29 alla scalinata di San Bernardino sarà la volta dello show di Ezio Greggio, 40 anni di cinema e TV. A chiusura il grande concerto dei Pù, il 30 agosto a Colle Maggio. Nel mezzo ovviamente tutta la parte religiosa, con il Clu della perdonanza che sarà come ogni anno il 28 agosto, con il tradizionale corteo storico della bolla e con l'apertura della Porta Santa. La 730 è la mia settima, un avvenimento importante, un evento importante per l'Abruzzo tutto. È diventato un evento nazionale, anzi internazionale, per tramite dell'arte e della musica, insomma, portiamo a riflettere, portiamo dei messaggi. Allo stesso tempo anche molta leggerezza. Grazie. 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 Grazie.